Questo è un esercizio che rafforza le ossa ma al tempo stesso stimola la rigenerazione delle cellule del mirolo. Come sapete, circa 24.000 cellule al giorno vengono rigenerate e questo è uno degli esercizi che aiuta la stimolazione, quindi la rigenerazione delle cellule stosse. Allora, faremo tre movimenti d'apertura e di chiusura, l'avete già fatto però vanno fatti, e poi anziché che fare il terzo movimento per nove volte, lo faremo tre volte, è come se gonfiassimo con l'addome un pallone, nel senso che quando lo ispiriamo... E poi, man mano di venire dietro, facciamo questo, non è complicato, certo? Allora, partiamo, ci concentriamo per un attimo, adesso un'altra sorella, facciamo il testo così leggeremo anche che cosa facciamo e cosa avviene nella nostra mente mentre si chiama esercizi. Facciamo l'apertura, quindi si fa il ruolo di ruolo all'esperma, puntiamo i cerchi qui alla direzione e poi giù. E facciamo questo ruolo avanti. E facciamo questo ruolo avanti. Adesso al contrario. Adesso facciamo mezzo giro, ispiro, porto le mani all'addome. Ispiro. Tutta la curata della ispirazione mi salta con le mani ed è quanto scuotiamo e riportiamo alla lingua. Quindi ispiro ed ispiro. Come noi vediamo, ispiro ed ispiro. Ancora. Sorgiare per un attimo le mani sulle linee. Fai scivolare le mani lungo i piatti. Sorgiare per un attimo le mani sulle spalle. Pagli interno. Pagli interno. Pagli interno. Le punte riguardo verso il cielo. Pagli interno. Pagli interno. sulla porta della riga, quindi al centro qui, sotto il mare, la destra salva insieme, la sinistra poggia dietro e la destra la fate salire delicatamente e la poggiate a circa 15-20 cm dalla vostra testa, in questo modo, questo si fa almeno 3 volte per parte, se vi dà fastidio di acquisire qualche piccola pressione, alzate la mano, adesso fate scendere la mano con il corpo, il palmo, il piede, la legge, quando arrivare all'altezza dell'ombelito, fate scendere entrambe le mani contemporaneamente e facciamo la stessa cosa all'altra parte.